Con la introduzione prima di cominciare ho invitato un ragazzo golden nel mio mondo solo che ho fatto fatica a registrare nel primo episodio l'audio perché avevo un microfono nuovo come ben sapete e quindi ve lo presento diciamo un po' così, ha già l'armatura, gliel'ho fatta io e gliel'ha fatta anche Nina scusatemi se non ve l'ho presentato bene ma vabbè, addio l'unica cosa adesso dobbiamo prendere sta nederite giusto? vedo il nome oh, ciao eh, mi rimaneva in più mi sa che mi accontento di due lingotti, a tre non c'è arrivo eh no eh? non c'è non c'è quando ne abbiamo a casa due lingotti? Due? aspetta, però io c'ho due, due scrap nella ender chest quindi ma che dovremmo fare la forma di grieber già e anche a presto ma è difficile trovare due scrap per me caputana non riesco a trovarmi che è qua? è già tutto scavo oh, eccola caputana si grazie tre una per te ah si, ne ho altri due nella ender chest tieni grazie già ti provo ti provo per di antico dobbiamo tornare a casa ora qua, con così pochi pezzi beh, io sono a posto no 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 allora adesso come facciamo a tornare a casa? beh, la domanda boh, in qualche modo faremo più tre che ne trovi no quelli ne abbiamo trovati tutto ciò eh, boh ah, ma qua c'è ancora il ferro a cuocere mi dai le coordinate per andare nel net portare nel net ma basta che segui il coso della fortezza, non ti ricordi? passami le coordinate no dai meno 150 180 prendo nederite mi faccio tutto bello dove sta la nederite eccola qua 180 giusto? oh telepasso in DM 150 180 minchia, non è difficile ricordare due cazzo questa è la famiglia di patata di numeri sarebbero 6 sono due numeri perché 150 è un numero e 176 è una scp 176 no aspetta, era 176 boh non lo so e non lo voglio sapere sto facendo un fottuto tunnel da un portale all'altro io sto raccogliendo la nederite allora ho bisogno dell'oro così è abbastanza allora io mi faccio di nederite il piccone la pala e cos'altro non lo so magari la pala intanto allora nederite graffitiamola allora la pala è max poi mi farei una parte di armatura quindi magari i leggings e voilà potrei fare anche il corpetto gli stivali per forza no perché non sono ancora completi farei a sto punto il picconazzo eccolo qua perfetto allora io vengo nell'end a ripararmi le cose allora end 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 allora mi stanno esplodendo le orecchie qui via dalle palle gli enderman e li ammazziamo armatura armatura già riparata litra pure pala piccone l'altro piccone eh sono sopra di te non è vero ah sì là sopra come faccio la cagnetta te mmm bene se stranze si trasportano pure sopra non lo so no non vorrei non mi faccio però sono andato giusto un centimetro io mi sono riparato all'armatura diamant devo farmi devo tornare nell'overworld diamanti mi servono dei diamanti un razzo ce l'ha uno uno un razzo due razzi tre cazzo easy niente ti prego fa che ci arriva almeno un buon punto vabbè dai quasi in fondo abbiamo un unbreaking un unbreaking a questo punto vado già ad utilizzarli mettiamo sullo scudo perfetto ti immagini lo scudo di nederite sarebbe già non avrebbe un minimo di senso però sì anche perché lo scudo è la cosa meno utilizzata di questo mondo praticamente comunque non abbiamo più gunpowder ci servono creeper perché ti togli l'armor mi chiedo io però sto potenziando e non la voglio sprecare se c'hai mending che è salirata sto per fare un piccone mamma mia c'avrei bisogno però i livelli solo unbreaking vorresti fare un punto dove buttiamo il fuoco al massimo fuoco lava sì ti immagini uno che vedi uno così cazzo ho buttato oh cazzo non volevo buttarlo un cazzo in più ce lo mettiamo no no eh ah faccio du gaz bella stascia quasi quasi disincento la vecchia la vecchia putta oh enderman di merda è di nuovo a 30 stiamo efficienza sicuro 4 e unbreaking avrei bisogno di un un manding eh sì di un manding di un seal touch facciamo una nuova ascia sai cosa ho bisogno anche mi è venuta in mente adesso che ho bisogno anche sharpness però prima voglio vedere se riesco ad incantare quest'ascia quella qua fortuna 3 non mi serve una minchia torno alla base non mi diraggia eh dirlo prima mi piacciono molto ste foglie rosse serve un botto un botto di diamante mi serve un bico e vieni a prendertelo mi serve una spada in più fattela quali chiamanti quelli che andrò a prendere dopo che avrò preso la carta per fare il mio sharpness allora gli smeraldi li ho presi cioè ho preso i due libri però devo prenderti quanti diamanti ehi che quanti diamanti vuoi abbastanza per fare abbastanza spade quante vanno prenderne 10 di diamanti 10 spade vuoi farti cioè 5 spade sì mi serve devo fare una spada devo fare decenni ma te ne bastano due di spade per farti una una finale ma bu fanno io io te ne prendo due così te ne vuoi altri però ora voglio intanto unire questi fare così farmi due o tre livelli l'abbiamo 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 non riesco a trovare può smettere di mettere cose perché magari dopo c'è un copyright ma io sto morendo ancora con fortuna non la voglio voglio un semplice se non mi dai porca non voglio fortuna oh silk mio dio un anno per metterlo adesso se io faccio così no devo girare devo fare così faccio così poi faccio così no posso tirarti una sciata con questa voglio solo vedere quanto danno ti faccio vai però devo farti il critico quindi mi serve di spaccare un blocco posso? mezzo cuore a max vabbè però c'ho sharp c'ho sharpness 5 ragazzi direi che per questo episodio è tutto da me lui e marty 104 è tutto ciao ciao caffo guardate caffo guardate brutti e stronti caffo vuoi tu da da eh da da ragazzi io non riesco a capire una stessa di quello che dice lui ciao agafi al prossimo video ciao ciao